No ma Lucia l'hai voluto volare la prima volta o la seconda? Eh sabato scorso Eh allora non andava L'ha spinto la seconda No ma un andava Mario la mandava subito Ma non andava Perché Lucia aveva il motore che il dio cane Adesso ne vorrei regalare il motore Ci ha messo un motore All'epoca andava no? Era un 2 e mezzo Ti prendi già Det~~~ App Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.